che vi ho inserito blogitalia.it come vediamo blogitalia.it è strutturato in un modo che suddivide i blog per categorie vedete qui arte e cultura attualità e notizie cinema e spettacolo economia eccetera eccetera quindi può essere interessante andare a visualizzare quali blog trattano i nostri argomenti e cercare magari forme di collaborazione con loro inoltre per capire la popolarità di un blog può essere utile verificare i profili social se esistono facebook twitter google plus che sono legati al blog in modo tale da capire quante persone lo seguono generalmente blog che vanno sotto diciamo i 2000 utenti che seguono appunto questo sito o questo blog possono essere molto interessanti perché non sono né troppo grandi né troppo piccoli e quindi hanno la giusta via di mezzo per provare forme di collaborazione ovviamente gratuite un'interessante opzione legata ai blog è quella della colonna degli ospiti e l'opzione guest post cerchiamo di capire che cosa sono la colonna degli ospiti fondamentalmente offre l'opportunità di scrivere su un argomento di interesse generalmente all'inizio alla fine del post ed è indicato proprio dal proprietario del blog la possibilità di inserire anche una breve bibliografia dell'autore l'indirizzo del sito web che quindi porta appunto può portare un backlink e anche uno o due link di approfondimento a piacere nella maggior parte dei casi è sufficiente iscriversi al blog e verificare appunto se i blogger ospiti sono autorizzati a contribuire alcuni blogger invece richiedono contenuti specifici magari su determinati argomenti e hanno generalmente all'interno del blog una sezione dedicata proprio a questa forma specifica che si chiama guest post o guest blogger vi faccio vedere in questo caso un esempio di blog che offre proprio questa opportunità ai vari blogger il blog si chiama penna blu e vedete che ha proprio una sezione dedicata al cosiddetto guest blogging o comunque guest post ci dà le indicazioni quindi che cosa dobbiamo fare per poter scrivere grazie 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 grazie